C'è un parallelismo tra investire in sicurezza e riduzione del fenomeno infortunistico e quindi è necessario investire in sicurezza perché l'investire in sicurezza è realmente un investimento, non è una perdita perché aumenta anche la competitività, si evitano problemi di sostituzione del personale che dovesse in qualche modo avere dei problemi e quindi l'azienda riesce ad essere ancora più competitiva sul mercato. Questi finanziamenti si inquadrano in un percorso ancora più ampio che vede l'istituto partecipe, diciamo partner istituzionale per risolvere i problemi della crisi che possiamo dire attanaglia un po' tutto il mondo economico, basti pensare che quest'anno con la manovra economica che è stata posta in essere ci sarà un miliardo di riduzione per l'anno 2014 per quanto riguarda le aziende che adottano misure di sicurezza, un miliardo e cento per l'anno 2015, un miliardo e duecento per l'anno 2016 e questi percorsi di aiuto e sostegno alle aziende già da tempo avvengono all'interno dell'istituto, basti pensare all'articolo 24 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi che in gergo è chiamato l'OT24, per tutte le aziende che hanno il quid pluris in ordine alle misure di sicurezza c'è un ulteriore contributo che si risolve in una riduzione percentuale del tasso di premio da pagare all'istituto, a questo si affianca tutto il percorso dei finanziamenti ISI che oggi ne parleremo qui diffusamente, ci saranno i miei colleghi, saranno molto più esaustivi nella elencazione di questo, che riguarda i finanziamenti che già dal 2010 adottiamo nei confronti delle aziende che adottano sistemi di sicurezza, adottano misure di sicurezza per le aziende e anche sistemi organizzativi volti a migliorare le condizioni di sicurezza senza peraltro dimenticare o rimarcare la sostituzione di macchine con adeguati modelli che rispondono a sistemi di sicurezza avanzati. Per quanto riguarda i finanziamenti ISI viaggiano nella misura del 65% in conto capitale, quindi è chiaro che sono dei grossi aiuti che possiamo dare in un momento così delicato, un momento in cui l'ente pubblico, le amministrazioni pubbliche devono essere al fianco delle aziende per creare le condizioni di sviluppo e di miglioramento anche delle condizioni di sicurezza, perché chiaramente quando parliamo di infortuni parliamo sempre di numeri e di cifre che lasciano veramente pensare che dobbiamo fare qualcosa in più. Sono finanziabili anche interventi di edilizia, quindi ristrutturazione di edifici, purché si tratti di edifici dove si svolge un'attività lavorativa e sempre che questi interventi producano un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza per chi ci lavora. C'è proprio una linea specifica nei progetti di investimento per questo tipo di interventi. Anche l'adeguamento antisismico di capannoni o edifici è finanziabile con questi finanziamenti easy. Sempre che ci sia un rischio sismico contemplato nella valutazione dei rischi dell'azienda può essere anche indicato non come rischio sismico ma come ad esempio rischio da crolli o da possibili esplosioni in caso di scosse sismiche. Quindi comunque è finanziabile questo tipo di adeguamento. Devo però dire che non è previsto un rischio specifico nel sistema di punteggi per il rischio sismico e di conseguenza il punteggio che viene attribuito è basso. Però bisogna anche dire che l'Inail in realtà ha fatto questa scelta perché ha già contribuito in maniera sostanziale stanziando dei fondi proprio destinati alla ricostruzione degli edifici colpiti dai sismi che hanno colpito le miglie appunto. E poi un'altra cosa riguardo sempre all'adeguamento antisismico. Chi lo avesse già fatto, perché i finanziamenti easy sono destinati a interventi che devono ancora essere realizzati, mentre invece chi avesse già adeguato le strutture alla normativa antisismica, può comunque averne un vantaggio economico perché da quest'anno è possibile inserirli come tipi di intervento validi per ottenere l'oscillazione del tasso per interventi di prevenzione già effettuati nel corso del 2013. Quello che noi andiamo a valutare deve sempre avere coerenza con quello che troviamo nella valutazione dei rischi, quindi sta all'azienda tenere i propri documenti aggiornati. Spesso ci viene chiesto, anche nei bandi passati, è stata fatta la rimozione di coperture in Ethernet, in Amianto. Anche questo è finanziabile, però riguardo a questo ci sono delle specifiche nel bando, viene esplicitamente detto che cosa è finanziabile e cosa non lo è. Cioè noi in sostanza andiamo a finanziare ben volentieri la rimozione dell'Amianto e la sostituzione con una copertura standard, cioè con tegole oppure pannelli o ondulati eccetera, però standard. L'inserimento di elementi tecnologici diversi come possono essere i pannelli fotovoltaici o altro, insomma non è finanziabile, quindi va escluso come spese. Anche l'incapsulamento di coperture in Amianto o comunque di manufatti in Amianto è finanziabile, devo però dire che ha un punteggio in termini di efficacia leggermente inferiore perché non viene completamente rimosso, quindi anziché 35 punti, gli vengono assegnati 30 punti. Siccome c'è una soglia di 120 punti da raggiungere, questo può incidere in minima parte perché è una differenza minima. Sia i finanziamenti easy che le domande per l'oscillazione del tasso sono compilabili online, c'è tutto un insieme di strumenti che guidano l'azienda, quindi la compilazione è abbastanza semplice e comunque noi siamo a disposizione per qualunque problematica o domande. Rispondiamo, abbiate pazienza rispetto ai tempi, però rispondiamo. I progetti ammessi al contributo sono progetti di investimento, i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti per la sostituzione e l'adeguamento di attrezzature messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al titolo 3 del Decreto Legislativo 81 del 2008. Il stanziamento previsto per la Regione Emilia-Romagna è pari a circa 20.890.000 euro, di cui 20.120.000 euro circa per i progetti di investimento, di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e 770.000 euro circa per i progetti di adeguamento o di sostituzione delle attrezzature messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996. I destinatari del finanziamento sono tutte le imprese, anche individuali senza dipendenti, che sono iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, che hanno un'unità produttiva attiva nella Regione Emilia-Romagna. L'entità del finanziamento dell'Istituto copre il 65% delle spese ammesse al contributo al netto dell'IVA, con un limite minimo di 5.000 euro, tale limite minimo non esiste per le imprese fino a 50 dipendenti che presenti in un progetto di adozione di modelli organizzativi o di responsabilità sociale, è un limite massimo di 130.000 euro. È possibile compilare la domanda online collegandosi al sito www.inal.it fino alle ore 18 dell'8 aprile 2014. Dopo questo momento non sarà più possibile salvare la domanda. È necessario raggiungere, per ottenere il salvataggio della domanda, il punteggio soglia minimo di 120 punti. Per tutte le informazioni sul bando vi potete rivolgere a tutte le sedi provinciali dell'Istituto, in particolare al processo prevenzione delle sedi provinciali dell'INAIL e al sito ufficiale dell'Istituto www.inal.it finanziamenti alle imprese.